Non ce l'ha fatta Edson Filo Pignero da Silva, l'uomo di origine brasiliana che si era dato fuoco ad Alto Pascio lunedì mattina durante una notifica di sfratto. Troppo estese e profonde le ustioni riportate dal brasiliano che nella notte è deceduto all'ospedale di Cisanello dove era stato trasportato in condizioni disperate. Il dramma si era consumato nella tarda mattinata quando alla porta dell'appartamento di Corte Panattoni si erano presentati gli ufficiali giudiziari ed i carabinieri per procedere allo sfratto esecutivo del 42enne. È stato in quel momento che l'uomo ha dato un'escandescenza barricandosi in una stanza e presimovibilmente cospargendosi di liquido infiammabile per poi darsi fuoco. L'uomo doveva aver lasciato anche il gas aperto perché subito dopo una violenta fiammata invaso locali della casa. Subito soccorso da carabinieri e da vicini, a corsi richiamati dalle gride e dal rumore del rogo, era stato trasferito a Cisanello con l'elisoccorso Pegaso con ustioni su oltre il 70% del corpo e qua è deceduto durante la notte. L'incendio innescato aveva distrutto l'appartamento e reso inagibile quello al piano di sopra e un seminterrato.